Anna Oxa, un'emozione da poco alle 8.08, questo era il Cristal History delle 8 di oggi, venerdì 22 marzo, ripetetelo tutti insieme a me, thanks god, it's Friday, dopodiché se amate questa canzone non potete perdervi il pezzo di, lo chiamavano G. Grobo, grande film in cui Luca Marinelli interpreta questa canzone, è qualcosa di spaziale, io ho riamato questa canzone grazie all'interpretazione di Luca Marinelli in quel pezzo. Comunque invece andiamo avanti, ve l'ho detto prima, arrivavano in ospiti e sono qui in studio con noi, sono e siamo contenti che è tornata a trovarci, Silvia Gatti. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati e ritrovate, ciao Fabio, come va? Buongiorno Silvia, tutto bene, grazie di essere ancora qui con noi, grazie di essere tornata a Good Morning Milano, i nostri artigli della mattina con Silvia Gatti. Che bello, non ho le unghie per oggi, mi spiace. Giocavo sul fatto Gatti, Gatti, artigli. Ah scusa, io pensavo alle unghie finte, vabbè. No, 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 giocavo su quello, vabbè, niente, come non detto, Silvia oggi non viene da sola e anzi lascio a te presentarci con chi sei venuta a trovarci. Ma certo, sono venuta con Alberto Mattia, managing partner di Panta Rai o Rai, mi sono già dimenticata, buongiorno Alberto. Panta Rai, buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno Alberto. Una persona seria Fabio, eh. Una persona seria, non mi è piaciuto prima con il tuo nome, mi ricordi, scusa, il tuo nome, Alberto, il nome è Mattia di Cognore, perché quanti ti chiamano Mattia Alberto? Si confonde anche mia moglie. Ecco. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, una volta si diceva c'è la crisi, c'è la crisi, si diceva, no? Ecco, tu di questo ti occupi proprio, no? Io ne ho fatto un lavoro, c'è la crisi. Urbo. Se non c'è crisi, non c'è party, no crisi, no party per Mattia. Nì dai, nì. Per una famiglia Mattia, no, come funziona? No, allora, in realtà... Che cosa vuol dire gestire le crisi? No, questo voi fate, no? Noi gestiamo, diciamo, supportiamo le aziende nella gestione della crisi, che contrariamente in realtà a quello che si pensa è una disciplina di prevenzione, prevalentemente. Nel senso che noi aiutiamo le organizzazioni a prepararsi a eventi critici, quindi il 90% del nostro lavoro viene fatto prima di una crisi, in vista di una crisi che speriamo non arrivi mai, però poi purtroppo... Esatto, cioè, in Italia c'è molta superstizione, però... Occhio, 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 ecco, 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 ecco la roba lì, no? Però purtroppo poi le crisi arrivano, volenti o nolenti, quindi, insomma, noi in qualche modo aiutiamo le aziende a prepararsi. Ricordo una cosa di quattro anni fa. Prevenire è meglio che crisare, in questo caso. A proposito di prevenzione, una cosa molto interessante che mi raccontava Alberto, a proposito di grandi crisi, c'è una grossa azienda della quale siamo autorizzati a parlare, che è S.Lunga, per tutti gli imbruttiti, che ha affrontato una grossa crisi prima ancora che arrivasse. Spiegaci Alberto. Sì, noi abbiamo supportato S.Lunga, e ripeto, lo posso dire perché ne abbiamo parlato anche con loro in diversi webinar che abbiamo fatto pubblicamente, l'hanno detto loro stessi, e mi fa piacere ricordare che loro hanno iniziato a prepararsi alla pandemia già alla fine del 2019, quindi prima ancora che arrivasse in Italia, perché… Cosa sapevano che non lo sapevano? Molto! In realtà semplicemente erano attenti alle notizie che arrivavano, perché dalla Cina si sapeva già da novembre e dicembre quello che stava succedendo nell'area di Wuhan, all'inizio si pensava che fosse confinato lì, non è il problema. Loro però, soprattutto sul periodo natalizio, avevano tanto personale di cooperative che ovviamente lavorano con il gruppo S.Lunga, che viene appunto dalla Cina, che è cinese, quindi hanno iniziato a prepararsi perché hanno detto, beh, non si sa mai che magari qualcuno, all'inizio ovviamente non pensavano, come tutti noi, che ha assumesso, diciamo, queste proporzioni, poi la natura è il problema, però hanno iniziato a pensare, a dire che cosa facciamo se effettivamente dovessimo avere dei casi di Covid all'interno della nostra organizzazione. E lì poi, diciamo, si è sviluppato, ne stavano già lavorando su un progetto cosiddetto di continuità operativa, per aiutare S.Lunga, come facciamo con tante altre aziende, appunto a prepararsi a continuare a operare, anche in condizioni molto difficili, e ovviamente, insomma, questo gli ha consentito di essere in anticipo su quella che è la crisi e poi di gestirla dal punto di vista operativo molto bene. Quindi ne è uscita abbastanza bene, tu dici, rispetto ad altre aziende, società che, uno, non hanno prevenuto, due, forse non si erano accorte. S.Lunga è stata avanti in questo, grazie ai suoi fornitori, collaboratori cinesi, giusto? Ma allora, sicuramente è stata un'azienda che, muovendosi in anticipo, è riuscita, in parte, a mitigare quelli che sono stati gli impatti. Poi, non so rispetto a altre società che operavano in quel settore, perché non ho conoscenza diretta di altre aziende, però sicuramente, voglio dire, S.Lunga, come tante aziende di quel settore e di altri settori, è un servizio essenziale. I supermercati non potevano chiudere, avevano la deroga per continuare a operare, mentre tutti noi, fondamentalmente, eravamo in lockdown. Che attenzione, questo non era solo un bene, perché attenzione, è facile parlare, se non si è fatta i soldi in quel periodo. Sì, però la metà della gente era a casa anche loro, cioè avevano anche loro, quelli che stavano a casa con il covid, avevano quelli che non potevano uscire. Cioè, gestire un'azienda così grossa, con quella cosa lì, non è solo, ah, ti sei fatti i soldi, no, non è quello. E' tutt'altro che banale dal punto di vista operativo, e vi assicuro che sono stati fatti degli investimenti enormi, ma, diciamo, a prescindere da S.Lunga, pensate un'azienda che lavora sulla grande distribuzione, S.Lunga poi fa tantissima anche produzione. Sì. E pensate, da un giorno con l'altro, quando è arrivato il lockdown, il fatto di avere, non so, una percentuale di guadagni che arrivano dall'e-commerce, quindi dalle spese online, che magari, non dico che sia marginale, però di certo non è maggioritaria rispetto al resto del fatturato, magari del gruppo, e letteralmente, da un giorno con l'altro, invertire magari questo trend, cioè logisticamente non è banale, è tutt'altro che banale. Quindi, gestire una crisi di questo tipo, prepararsi a gestire una crisi di questo tipo, allora dire che S.Lunga fosse pronta a una crisi di questa proporzione, ma neanche loro te lo diranno mai, no, naturalmente. Noi abbiamo fatto con loro un lavoro, tra le altre cose, anche di preparazione a questa cosa, e sicuramente loro hanno avuto il grande merito di vederla in anticipo. Sì. In più, forse c'è anche un gap culturale, mi viene da dire, nel senso che noi, alle crisi, passami il termine brutto, alle sfighe non ci pensiamo mai, no, e quindi è una cosa che mettiamo sempre in secondo ordine, sembra, ma poi succede, ma allora non succede mica a me, la mia azienda è tranquilla. Sempre agli altri. Sempre agli altri, ma la mia azienda è perfetta, ma non succederà mai alla mia azienda avere un momento di crisi, ma crisi, ma anzi, noi siamo bravissimi, non facciamo… E poi invece le cose succedono. Quindi giustamente è fondamentale quello che dicevi per cofate, dopo l'operazione di prevedere, in un certo senso, che non vuol dire essere dei maghi, ma capire che insomma tutte le aziende… Stare attenti ai segnali, perché comunque c'erano dei fornitori… Io ho sentito, poi non so se sia vero o meno, che addirittura la comunità cinese… L'hai letto su Focus, l'hai letto dove? No, l'ho letto sul Cioè. Ok, promesso. Anni 90, scusate. Ho letto che la comunità cinese di Prato addirittura si metteva già le mascherine settimane prima, quindi erano dei segnali particolari. Sì, Paolo Sarpi si era quasi in auto-lockdown, avevano già chiuso tutto prima. Il mio amico Giuseppe, del ristorante cinese di Vianovara, effettivamente qualche giorno prima l'ha già chiuso, lui mi ha detto no, no, io tengo chiuso. Giuseppe è un nome tipico della Cina del Nord-Est, tra l'altro. Sì, 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 sì. Parentesi. Giuseppe Giuseppina, dico solo questo. Quindi, sì, dico solo questo. Salute Giuseppe, vai Vianovara. Non è pubblicità, ma è perché lo amo per quello. Io ho invece un cinese sotto casa, sempre col bar, che si chiama Luigi, mia moglie Lisa. Ecco, vedi. Tutto a posto. Alberto è scioccato. Scusa, Alberto. Scusaci. No, no, ci mancherebbe. Ma a proposito della malattia X, senza creare alarmismi, che qualcuno dice stia arrivando, ti chiedevo, c'è già qualche società quindi che sta anticipando la sfiga di cui parlavamo poco fa con Fabio? Vi hanno fatto richieste per paura? No, hai visto, avevi ragione. Sì, ma come dicevate voi, quello che diceva Fabio prima ha un nome proprio anche a livello psicologico, c'è il fenomeno della negazione, la malattia X, ma in realtà anche il Covid. Noi, chi fa il mio lavoro, si occupa di piani pandemici da ben prima del Covid, c'era poi il tema dell'ebola, tutti, diciamo, tutti fenomeni molto diversi dal Covid. Poi io non sono un medico naturalmente, non mi occupo dell'aspetto, diciamo, sanitario della questione. Da un altro punto di vista comunque esiste la cosa che se ne dica. Assolutamente, dal punto di vista organizzativo è importante prepararsi perché purtroppo poi quello che dice la comunità medico-scientifica è che potrebbe capitare qualcosa di simile con maggiore frequenza in futuro, nel senso che noi siamo abituati a pensare alle pandemie come qualcosa che capita ogni cento anni, però la verità è che il contesto, insomma... Gomblotto! Eh beh sì, poi quello, poi quello. Perché se qualcuno parla adesso, poi dopo dire ecco, chissà cosa... Beh, anche io più l'ho fatto, hanno detto chissà cosa sapevano o non lo sapevamo. In realtà è semplicemente essere un po' più intelligente, cioè forse mi andrà a dire se non sono io il capo di essere lungo ci sarà un motivo. Cioè anche quello... Sì, anche per me mi associo, se non sono io. Neanche in cassa mi presero ai tempi, ma a parte questo... Eh, li hanno sbagliato perché è stata molto gentile e simpatica con i clienti, quindi avresti aumentando sicuramente le venite del punto vendita, quindi va bene. Eh, adesso. Va bene, allora andiamo un attimino con un po' di musica. È il momento di ascoltarci Arcomi con Visti dall'alto insieme a Dardast, qui alle 8 e 17 su Crystal Radio. Good Morning Milano e poi torniamo ancora a parlare di crisi, di gestione della crisi e come funziona. Ma poi c'è anche un podcast molto interessante, insomma, tante cose Alberto, tante, 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 tante. E dai, vieni su, vieni su. Comi, siamo qua. Sali pure. Carino, vieni la zia. Eh, è carino. No, carino era modo di dire. Sì, sì, come no, va bene. Può essere mio figlio. La voce che sentite è la bella voce squillante di Silvia Gatti, che viene confermata anche dal WhatsApp, che è arrivato poco fa al 3317853555, che dice Un saluto alla briosa e simpatica Silvia Gatti, bella voce la sua. Grazie, deve essere mia cugina. Occhiolino e pollici in su. È mia cugina, è sicuro. È una cugina di nome Alberto? No, almeno che io sappia. Allora no, non è tua cugina. A proposito di Alberto, ce l'abbiamo qui in studio. Alberto Mattia, managing partner di Pantarei. Ci stava parlando di come la sua società affronta le crisi, ma non crisi piccole, crisi a livello proprio quasi mondiale, nazionale, internazionale. E Alberto ha fatto anche un podcast molto interessante. Parlacene. Sì, il podcast si chiama Human, scritto Y-O-U-Man. Tu uomo. Tu uomo, sostanzialmente. Sì, questo è un po' il senso. Gioca ovviamente sul concetto di essere umano, su tu uomo. E in qualche modo abbiamo iniziato a pensarlo in risposta all'esigenza di divulgare un po' quelli che sono i nostri concetti. Volevamo parlare di resilienza, che è un po' il tema di cui ci occupiamo noi. Senza menzionare mai la resilienza, perché oggi parli di resilienza la gente alza gli occhi al cielo. Non ne può più. Tatuaggi, con scritto resilienza. Poi ho un aneddoto anche collegato su tatuaggi e resilienza, perché noi con la nostra società, qualche anno fa, con un marketing manager della mia società di qualche tempo fa, volevamo capire perché il termine resilienza fosse diventato così di uso comune, perché noi ce ne occupiamo professionalmente. E pensavamo nel nostro essere molto sofisticati in corrispondenza di qualche crisi. Andiamo a vedere su Google Trend l'analisi e il boom di ricerca è stato dopo il tatuaggio di Gianluca Vacchi. Capisci. Gianluca Vacchi che ha più followers della Ferragni e che è indagato dalla finanza, mi sembra, ultimamente. Deve essere una costante se hai più di un milione di followers. No, scherzavo. 20 milioni. Era una battuta, era una battuta. Salutiamo anche Gianluca Vacchi. Sì, ci dicevi Alberto. Sul podcast, quindi diciamo, avevamo voglia di divulgare su queste tematiche e allora ho parlato con questa mia carissima amica, nonché ottima professionista, che è Vittoria Pietra, che è una dottoressa psicologa e psicoterapeuta, che tra l'altro mi ha anche aiutato molto personalmente nella vita. Poi ne parliamo, se vuoi. E l'idea era quella di creare un percorso ideale. Sì. Infatti abbiamo creato 21 puntate da mezz'ora circa ciascuna, ciascuna con un argomento, partendo dal rischio, che è la prima puntata, le ultime due sono il successo e la gioia. E' tutto un percorso perché l'idea era quella di affrontare il percorso mentale, il processo mentale di una persona che si trova a affrontare un rischio, che poi è il nostro lavoro, e deve cercare di risolvere la questione con successo, con l'obiettivo poi di essere felice nella vita. È un bello obiettivo questo. Un obiettivo sfidante, chiaramente, che non si raggiunge poi mai veramente nella vita. Ci si prova. È la ricerca della felicità. La ricerca. Bravo. Io e Alberto siamo già connessi. Pazzeschi. Allora me ne vado. Bene, ok. Già dalla felpa abbiamo anche abito la connessione. Ah, ok. Chi ci sta guardando in grande su Milano News può capire. Per gli altri. Pazienza. Guardate il podcast poi su Spotify. Vi telefonerete. Torniamo al podcast. Tornando al podcast, no, questo era un po' il senso, diciamo, del percorso che volevamo fare. È venuto fuori una cosa, secondo me, molto carina. Dove possiamo ascoltarlo e vederlo? È su Spotify e su YouTube, naturalmente, tutte piattaforme gratuite. Quindi, diciamo, è stato un primo esperimento, perché in origine l'idea era scrivere un libro. Poi ci siamo guardati, io e Vittorio e Benetto, ma quando ce l'abbiamo il tempo di scrivere un libro... Ma poi chi lo legge? La gente ascolta i podcast. No, sto scherzando, eh, chiaramente. Beh, oggi è anche commercialmente più difficile, ma comunque, diciamo, non avevamo neanche il tempo materiale, quindi abbiamo deciso di fare queste discussioni a due, che sono letteralmente delle chiacchierate, non è scritto. Delle chiacchierate, sì, 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 sì. In cui io mi preparo, diciamo, un paio di citazioni a puntata, che mi servono come spunto per sviluppare la discussione. Io dico sempre faccio l'utile idiota, no? Poi i miei amici che l'hanno guardato hanno detto, no, ma non sei utile, perché la via la stare è Vittoria. Ma non sei neanche idiota, però, poveri... Cioè, adesso, ma che amici hai, scusami. Stavo pensando solo degli amici. I miei amici. I miei amici, non si sceglie. Ma battute a parte, la vera star del podcast in realtà è Vittoria Pietra, che, diciamo, dalla sua prospettiva di psicologa, psicoterapeuta, mi spiegano il funzionamento della mente umana, che è un aspetto, secondo me, molto interessante, perché io parto dall'assunto che noi insegniamo, diciamo, alle organizzazioni a essere resilienti, quindi a sviluppare questa capacità, però all'assunto, appunto, che un'organizzazione non può essere resiliente se le sue persone non sono resilienti. E quello è un tema, naturalmente, più da psicologa, psicoterapeuta, perché ho chiesto a Vittoria di, con me, creare questa iniziativa. Sì, poi lei, ovviamente, è entrata anche nella parte proprio creativa, decisionale, del processo. Sono dato un enorme contributo. Fra poco parleremo anche di come questa psicologa, psicoterapeuta, ti ha aiutato, è una cosa tua personale, che però ci vuoi esporre, è molto interessante da ascoltare. Entriamo nell'intimo? Sì, beh, abbastanza. Un'ultima domanda, ti sei tatuato resilienza da qualche parte? No, non ho tatuaggi, non penso di farmene, però mai dire mai. Una bella idea è non resilienza, ti tatui, anzi, anti-resilienza. Non parlatemi di resilienza, è un gotico sulla pancia. Non mi voglio portare il lavoro sulla pelle. Fabio, te prego, abbiamo una persona in giacca. Ti assicuro che ho visto ospiti in giacca che sotto quelle giacche. Sotto quelle giacche, ecco. L'abito non fa il monaco. Chissà, chissà. E non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è ancora, per fortuna, la musica, oltre alle nostre chiacchiere. Bella musica, perché saprà arrivare Rebel Rebel di David Bowie. Qui su Crystal Radio alle 8.26, Good Morning Milano, e grazie all'ufficio programmazione che ci dà queste perle. Grazie, David Bowie, come diceva appunto la nostra Silvia Gatti, Rebel Rebel. E gli applausi di Calcutta sono tutti per Silvia Gatti, che è qui con noi oggi in studio, e anche per Alberto Mattia, il nostro ospite, managing partner di Pantarei. È arrivato un Whatsapp che parla appunto di resilienza. Cioè lo scrive il nostro amico Ambrogio, che diceva, a proposito di resilienza, mi sovviene, ma guardate che mi sovviene, non mi viene in me, cioè mi sovviene. Ma che mal di testa, di corpo. Pensate che pubblico che abbiamo. Un mitico brano dei Queen, Under Pressure, che diceva, la pressione mi butta giù, ti schiaccia, nessuno lo vorrebbe, sotto la pressione che riduce in cenere un palazzo, divide in due una famiglia, getta le persone sull'astico. Ma nessuno appunto, ti schiaccia, nessuno lo vorrebbe. Ed è lì che si chiama Alberto Mattia appunto, per risolvere la situazione con Pantarei. Ma se posso dire su questo tema dell'Under Pressure, c'è una bellissima citazione di Hemingway che dice, il coraggio è saper mantenere la grazia sotto pressione, che io lo uso tantissimo nei miei corsi di crisis management. Il coraggio? Il coraggio è saper mantenere la grazia sotto pressione. Ah, non di Eminem, di Hemingway hai detto. Il contrario del coraggio, eh? No, perché stavo pensando a quello che sono in questo caso. Codardo? Ecco, perché non riesco molto a gestire quella roba lì, mi sa io, no. Mantenere la grazia sotto pressione. Beh, è molto facile a dirsi, molto difficile a fare, sì, ovviamente. Mantenere la grazia, poi è difficile, io non ce l'ho già di default. Pensa a Graziella anche e all'altra. Scusaci Alberto, ogni tanto dobbiamo tornare qui nei vasti fondi. Grazie a Silvia. Eh sì. In questo caso. Prima della pausa, parlavamo del fatto che il tuo lavoro si affronta le crisi degli altri. Ma tu ne hai, insomma, avute anche nella tua vita. Chi affronta le due. Eh, infatti. Bella domanda. Bella domanda. Allora, parliamo del fatto che innanzitutto, prendiamola un po' alla larga, se sei d'accordo. Io sono venuta a conoscenza appunto dell'attività di Alberto Mattia e di Pantarai, perché l'ha condiviso Selvaggia Lucarelli su Instagram. Io seguo Selvaggia Lucarelli, scusate non odiatemi. Ecco, alcuni mi ameranno, altri mi odieranno per questo. E ho detto, bah, se l'ha ricondiviso Selvaggia Lucarelli, farà poi un botto di visualizzazioni. E così poi è stato. Ho avuto le mie 24 ore da influencer, grazie Selvaggia Lucarelli. Sì, però ha fatto bene Selvaggia ricondivide cose valide. Ecco. Che cosa è successo? Avete parlato un po' in privato di cosa anche? Sì, ma allora, fondamentalmente sono entrato in contatto con lei perché ho condiviso, io ho creato questo mio profilo Instagram pubblico, I am Alberto Mattia, sotto Natale più o meno, nel senso ce l'avevo già quel profilo, ma era addormento, non avevo neanche il nome Instagram, neanche la foto profilo. E sotto Natale, o meglio subito dopo, ho raccontato, diciamo, ho avuto come esordio la condivisione e la mia esperienza perché io sono sopravvissuto allo tsunami del sud-est asiatico. Non si può dire così e passare oltre. Cioè, racconta bene. Cioè, cosa è successo? Sì, 6 dicembre del 2004, io avevo 16 anni al tempo ed ero in vacanza con i miei genitori a Phuket, in Thailandia, e quella mattina eravamo sul lungomare di Patong Beach. Quando è arrivata Londa, abbiamo parcheggiato la macchina da 5 minuti, letteralmente. Arriva Londa, ci prende letteralmente, essendo lì insomma non poteva essere altrimenti, e miracolosamente tutti e tre sopravviviamo perché il negozio dove siamo stati letteralmente sbattuti dentro, non so se siete mai stati a Patong Beach, però di fatto è una spiaggia con un lungomare dietro, con una strada, con tanti negozietti, e l'unico motivo per cui siamo sopravvissuti è che quel negozio aveva un retro, fondamentalmente. Quindi, vabbè, insomma, poi sulle mie storie Instagram c'è tutto il dettaglio, con anche qualche foto. Nelle storie in evidenza possiamo andare a vedere. Sì, nelle storie in evidenza, l'ho raccontata sia in italiano che in inglese, prendendo anche delle foto perché poi sono tornato l'anno dopo, quindi ho fatto una minima di piccolo personalissimo documentario. erano foto di quando avevo 17 anni al tempo, fatte, non vi aspettate niente di clamorose. Però, voglio dire, è interessante comunque, I.M. Alberto Mattia è il profilo Instagram su cui si può vedere questa cosa. E la domanda, secondo me, fondamentale è non come si sopravvive allo tsunami, come si sopravvive al dopo tsunami, è quello. Esatto. Ma infatti, allora, lì, diciamo, poi il motivo per cui siamo entrata anche in contatto con Selvaggia Lucarelli è che avevo condiviso una serie di riflessioni su fatti e vicende su cui preferirei, diciamo, sorvolare. Sì, perché secondo me bisogna parlare il meno possibile, è un'altra cosa. Però l'avevo taggata su una questione su cui lei era, insomma, molto attiva, no? Sì, in quel periodo, sì. Anche supportando quello che lei diceva, perché mi trovava molto d'accordo. Sì. Ad Alessandro Benetton, che parlava della gestione del caso Ponte Morandi e delle ripercussioni sulla famiglia Benetton, che è una proprietaria al tempo di autostrada. Esatto. E io ho fatto questo commento di cinque minuti, le ho scritto in privato, molto carinamente mi ha risposto, per chiederle un parere su una questione, diciamo, tecnica di comunicazione su cui mi interessava dal suo punto di vista. e lei mi ha dato il parere, ha visto il video e è finita lì. Il giorno dopo ho visto che l'ha ricondiviso sulle sue storie e questo naturalmente, per me che avevo al tempo, era un mese e mezzo che avevo quel profilo, avevo ben 170 follower, quindi niente, sostanzialmente, e il pomeriggio stavo lavorando, ero in conference call con un cliente, ho dovuto disattivare le notifiche di Instagram perché il video in 24 ore ho fatto 387.000 visualizzazioni, 1.800 like, mi pare una cosa del genere. e mi ha creato, grazie ancora a Selvaggia, 1.200 circa follower in più. Eh, numeri importanti. Sì, numeri ovviamente che nel contesto generale di Instagram non sono niente, per carità. Beh, per te, da dove partivi, però. Sì, poi io mi occupo di una questione che purtroppo è ancora molto di nicchia e l'idea era quella, partire dal podcast, diciamo, un paio d'anni che sto cercando di fare un po' di divulgazione, un po' più pop anche su queste tematiche, e quindi sicuramente mi ha dato un grosso boost, mi ha creato un piccolo pubblico, diciamo, tra cui sei arrivata. Eccomi, ehi là, che fortuna. 3.200, dovevi bloccarli prima, invece è arrivata anche se gli agatti, mi spiace. No, no, per carità, anzi, è un piacere. E quindi, diciamo, da lì ho iniziato a pubblicare anche qualche piccolo altro reel, che ovviamente non è andato virale come il primo, ma va benissimo comunque. E niente, l'idea è quella di cercare di divulgare, di parlare un po' di queste tematiche. E poi, diciamo, prima della pausa stavamo parlando anche di come ho conosciuto Vittoria, la psicologa, psicoterapeuta che fa con MyHuman, e io l'ho conosciuta in realtà proprio dopo lo tsunami, come diceva Fabio. Cioè, come si sopravvive a uno tsunami, io non lo so, nel senso che è puramente casuale. Chi è che lo sa? Non c'è niente, ma io infatti, se guardate tutte le mie storie Instagram, faccio un piccolo. In quanti secondi hai capito che era un grosso guaio quello che stava succedendo? Io l'ho capito dopo che era un grosso guaio, ma addirittura, cioè, la cosa assurda, perché noi, allora, io, erano ancora i tempi, i giovani che ci seguono non si rendono conto, ma non c'erano gli smartphone, non c'erano i wifi ancora così diffusi ai tempi, quindi io avevo il mio Nokia chiuso in camera, in albergo, in cassaforte, i miei genitori avevano i telefoni cellulari, era quei periodi in cui accendevi il telefono cellulare e spendevi più o meno uno stipendio medio, solo perché lo accendevi, quindi il mio cellulare era in albergo, in cassaforte ed è l'unico che si è salvato, perché invece i miei genitori, che erano con me, ovviamente hanno perso tutto nell'onda, come tutto quello che in tasca l'abbiamo perso, e quindi, diciamo, noi siamo stati sfollati, tra virgolette, sul tetto di un holiday inn di Patong per tutta la giornata, e fino a quel momento non sapevamo, cioè, chi era a casa aveva la percezione di quello che era successo molto prima di noi. Quindi è successo a me, e questa cosa che vedi intorno, non capivi quanto… Esatto, pensavamo fosse un problema confinato lì, e io mi sono reso conto, noi ci siamo resi conto della questione quando siamo riusciti a rientrare in albergo, che era più o meno mezz'ora da dove eravamo, con un tuk-tuk, più o meno alle 10 di sera, 10 e mezzo di sera, e abbiamo acceso la CNN, e abbiamo visto quello che è successo. Quindi, poi, come racconto, io la prima volta, diciamo, che ho avuto veramente paura di morire era quando tecnicamente ero già in salvo. Ecco, vedi, meccanismi… Perché la mente umana… Meccanismi… Sì, infatti quella è una cosa che anche con Vittoria ho indagato, anche nel podcast, anche se non lo menziono subito, perché nel podcast parliamo di questa cosa, ma verso la metà più o meno. Sì, vai. Però lei, che ovviamente già sapeva, perché mi conosceva da quel dì, ho indagato e una cosa che mi affascina molto è perché io non ho avuto minimamente paura durante. Cioè io durante non ho avuto minimamente paura perché il cervello è andato completamente in protezione. Sì. Un po' l'adrenalina, penso, anche del momento. Sì, certo. E però io ho realizzato, ho detto, caspita, c'era 16 anni, io sono morto tra qualche minuto, ero convinto di morire nel giro di pochissimi minuti. Quando ero, diciamo, sul retro di questo negozio, siamo stati spinti fortunatamente in corrispondenza delle scale. Quando si è fermata la forza della prima onda, siamo saliti su queste scale, abbiamo raggiunto questo balcone che però era ancora a fronte mare, purtroppo, e da lì abbiamo visto l'onda che si ritraeva e la seconda, diciamo, onda, che è stata poi anche quella un pochino più alta. E lì io, poi fortunatamente, quel balcone a retto, quella struttura a retto, da lì comunque ce ne siamo andati, da lì è iniziato MacGyver, no, con mio padre, che è stato fantastico da questo punto di vista, e, diciamo, passando per balconi e tetti abbiamo raggiunto questo Holiday Inn, che era un po' il palazzo in vista più alto che c'era, però lì ho avuto proprio la netta sensazione, ok, adesso sto morendo. E lì è la prima volta in cui ho avuto paura, e tecnicamente ero già in salvo senza saperlo. Però poi, diciamo, il vero strascico psicologico arriva dopo, no, naturalmente, e arriva in realtà neanche, neanche dici subito dopo, perché poi chiaramente i giorni dopo sono angoscianti per mille motivi, perché vedi tutto il contesto, ma sono poi le settimane e i mesi dopo. Infatti anche quando, poi ovviamente non è che, io dico sempre, non è che sono esperto di crisis management, perché sono sopravvissuto allo tsunami, perché è come dire che sei un esperto di arti marziali perché ti hanno picchiato, no, non è così. Abbiamo capito perfettamente. Esatto, non funziona così, ho dovuto ovviamente studiare, eccetera. Però, quello che dico poi, anche facendo leva sul mio vissuto e la mia esperienza, è che la crisi spesso ha delle ripercussioni anche nel lungo termine, quando i riflettori si spengono, perché poi dipende dal tipo di crisi, naturalmente, però spesso all'inizio hai l'empatia del pubblico, no, che ti aiuta, ti tira su, come ti dicevo prima quando parlavamo fuori onda, nelle settimane immediatamente successive allo tsunami ti tiene molto sul fatto che tutti ti chiedono, e quindi è un modo anche per esorcizzare quello che è successo. Poi ti trovi da solo, fra virgolette, poi l'attenzione diminuisce e tu cominci a ricordare, pensare, non so… Sì, di fatto, quello che è successo a me, poi, la mia esperienza, non è detto che debba capitare a tutti, ovviamente, però la mia esperienza è che mesi dopo, letteralmente mesi dopo, quindi molto dopo, ho iniziato ad avere attacchi di panico e disturbi da stress post-traumatico, che ho dovuto e devo tuttora gestire. Anche adesso, un pochino? Ma allora, diciamo, fortunatamente ho una vita normalissima, senza nessun tipo di handicap derivante da questa questione. No, no, vabbè, certo. Però magari qualche strascichino… Eh, però, sì, sì, no, gli strascichi ci sono sempre e ci saranno sempre nella vita e bisogna gestire, chiaramente va periodi, ci sono periodi anche di mesi o anni in cui non succede niente, dei periodi in cui magari… Peraltro poi, diciamo, lo zonami è un po' una scusa, un pretesto, nel senso che nascono sempre da problemi che uno ha, magari, internamente, che derivano da questioni ben più profonde, ben più… Addirittura, dici che quindi è stata la punta dell'iceberg, in realtà, sotto chissà cosa c'è, da un episodio grave ti si scatena tutto, ma perché c'è già una base, dici… Diciamo che la base, la base c'è sempre un po' per tutti, no? Sì, chi più chi meno. Chi più chi meno, naturalmente, poi… Però, insomma, il fatto che gli attacchi di panico siano comunque un riscontro pare così frequente, poi non sono uno psicologo, naturalmente non mi addentro troppo nel tecnico, però non è che tutti hanno subito, diciamo, dei traumi, tutti quelli che hanno attacchi di panico hanno subito dei traumi. No, è vero, è vero. Quindi in realtà non è detto… Ad esempio, i miei genitori, che io sappia, non hanno mai avuto attacchi di panico, anche perché probabilmente questa crisi l'hanno vissuta già molto più da adulti, no? Certo, erano più grandi, tu avevi 16 anni. Sì, poi, ad esempio, uno spunto di riflessione che mi aveva dato Vittoria al tempo era il fatto che comunque i miei genitori avevano già perso un genitore e quindi avevano già fatto i conti con l'idea della morte, no? Perché ti ricordi proprio quando dicevi, succede sempre agli altri della negazione. In realtà, quando ti muore un genitore, forse è la prima volta in cui ti rendi conto che morirai anche tu prima. Sì, anche tu parli di questo gioco. Esatto, no? Perché i genitori sono l'esempio, quindi anche nel morire in qualche modo sono l'esempio. E il fatto che tu te ne renda conto prima, senza ancora aver perso i genitori, è stato un po' di stabilizzante. Un po' di stabilizzante, ecco. Intanto arrivano i complimenti anche al 3317853555. Grazie a Katia che dice buongiorno a tutti, un saluto al vostro interessantissimo ospite e a voi. Grazie Katia della tua condivisione. Ciao Katia. Grazie anche ad Alberto per averci raccontato questa storia che continua comunque anche fra poco dopo i One Republic con Someday, qui su Cristal Radio, a Good Morning Milano. Continuate a seguirci. One Republic Someday. Siamo quasi in chiusura. Sì. Silvia con il nostro ospite Alberto Mattia, ma so che volevi chiedere questo nome, Panta Ray, no? Sì, Panta Ray, da dove arriva? Scritto in maniera particolare. Panta staccato Ray, R-A-Y. Sì, corretto. Ma allora, il nome ovviamente gioca sul concetto filosofico di Eraclito del tutto scorre, il Panta Ray, scritto alla greca R-E-I. Salutiamo Eraclito, che ci segue. Che ci segue, certo. L'irrepensibile Eraclito, ti ricordi come diceva. Esatto. No, poi siccome la società in realtà l'ha fondata mia madre, che purtroppo adesso non c'è più, però quando faceva brainstorming su come chiamare la società, sua sorella, mia zia che ha fatto studi classici, le è venuta appunto l'idea del Panta Ray. Mia madre però veniva da una lunghissima carriera di oltre 33 anni in JP Morgan Chase, grande banca americana, carriera molto internazionale, quindi voleva dare anche un'internazionalità a questo concetto di Panta Ray. Allora ha pensato di scrivere diversamente Ray, scritto R-A-Y, che in inglese vuol dire raggio, per dare l'idea dell'illuminazione, come se fosse una cosa appunto illuminante, quello che fa, che faceva e che adesso sto portando avanti io. E quindi questa è un po' l'origine del nome, il perché scritto anche in maniera così particolare. Non per niente è la boutique nell'affrontare le crisi, è la boutique dove affrontare le crisi la sua società. Perché porta la luce, porta la luce dove c'è la tenebra. Come ha fatto oggi Alberto, i miei venerdì però, non Good Morning Milano. Mi state creando aspettative altissime. Sempre, sempre nella vita, aspettative altissime. Come fare a seguirti invece, dove ti troviamo, come seguiamo, ricordaci anche il pod, insomma tutte le coordinate. Ma allora io, vabbè, mi trovate sui canali social, prevalentemente Instagram, I am Alberto Mattia, Tim Panta Ray è l'account social della società, Human Podcast, scritto sempre Y o Human Podcast per il podcast. Io poi sono su LinkedIn per gli amanti del genere, social molto particolare. È un genere, ragazzi. Gli amanti del genere non è male. Esatto, no. Social network più autoreferenziale della storia, però sono anche lì e tra l'altro sono molto più presente in realtà in termini di follower che su altre piattaforme, però stiamo cercando di divulgare in maniera un po' più pop, per cui se mi seguite su Instagram sono anche contento. Posso mandare in bacca tutto? Secondo me c'è un social che è peggio, più autoreferenziale, che è OnlyFans. Fabio, ti ho detto di non dirlo, che l'ho aperto, cavolo, Fabio. Allora dacci le cotidate, Silvia Gatti. Sto scherzando, ma ci penserò, ci penserò. No, dacci le cotidate che tu e Silvia però per seguirte appunto sui vari social. Silvia Gatti on Air, non vi aspettate niente. Cioè, abbiamo appena avuto Alberto Mattia e poi dalle stelle alle stalle. Io ti seguo, Silvia, io ti seguo. Anche io ti seguo, grazie. Sì, 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 sì. Ma sai che roba. Anche la costura. Anche la costura. Fabio, te prego, Fabio. Comunque, com'è che non vi aspettate niente? No, perché… Allora, adesso tu vai nella tua… Cancelli la bio e scrivi questa frase. Secondo me devi aspettare… Questo deve essere dal tuo colo. Non vi aspettate niente. No, non mi fare questo. Sto cercando di emergere radiofonicamente. No, fallo tu e poi mi dici come ti sei trovato, ok? Con una frase del genere. Oggi lo cambio, oggi lo cambio. Non vi aspettate niente. Io torno fra due settimane però, tra due venerdì. Sì, 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 torni qua, Silvia. Segnatevelo sul taccuino, mi raccomando. Mettetelo nel calenda, come dicono in questo caso. Ti inserisco in agenda. Ecco, inseritelo così vi arriva il pop-up e potete almeno cambiare canale. Che fortunati. Ah no, cioè, no, potete, scusate, no, stavo dicendo, potete ascoltare. Grazie ad Alberto Mattia di Pandarei che è stato qui con noi. Seguitelo. Adesso bisogna tenere alto però il livello, Fabio, dopo Alberto. Come si fa? Oh, no, no, no. Sono proibito, lo fai tu che mi porti… Non lo so. No, no, anche fra due settimane un'ospite interessantissima. Ve lo diremo nelle stories, magari ve lo anticiperemo nei prossimi giorni. Infatti, infatti. Allora, grazie ancora a Silvia Gatti, grazie ad Alberto. Grazie a voi. Noi ci risentiamo fra due settimane con Silvia e invece, come sempre, qui su Cristal Radio con Gulbano di Milano. E ora, sigla!